Allora, proprio mentre siamo qua che attendiamo un importante appuntamento, cominciamo il video sull'uomo che è morto due volte. Ad essere sinceri, nel frattempo, diciamo dal libro che è uscito, della sua storia, ad adesso che è passato qualche anno, l'uomo che è morto due volte ha avuto altri due arresti cardiaci, da quello che ho saputo. Quindi potremmo dire l'uomo che è morto quattro volte. Ma questo è ininfluente al nostro racconto, ossia a capire bene nella sua storia e nella sua cartella clinica medica quello che è successo e quindi quello che ci dà una nuova e sostanziale speranza nella vita dopo la morte. Perché questo è uno dei casi più studiati al mondo di NDE. Prima di iniziare però con il video, devo fare un disclaimer, o disclaimer, chiamatelo come volete. Siccome questo è un caso di NDE tra i più studiati al mondo, proprio perché è un caso tipico ed è un caso che si spinge molto al di là della solita NDE tradizionale, ci possono essere dei contenuti che possono essere facilmente fraintesi o comunque per le persone sensibili possono dare motivi di disagio. Per cui se siete sensibili, se siete estremamente rigidi nella vostra religiosità, se qualche contenuto può darvi ansia o può darvi delle aspettative o può deludere alle vostre aspettative, non seguite questo video, perché porta delle novità all'interno dell'NDE, chiamiamola classica, che però possono essere anche non vere al 100%. E mi spiego. Come noi abbiamo i nostri sensi, gli occhi, le orecchie, il tatto, l'olfatto, che si sviluppano durante la nostra vita, noi impariamo a utilizzare nella nostra forma spirituale, nella nostra forma di anima, di spirito, chiamatela come volete, noi viviamo delle sensazioni che non sono minimamente paragonabili, cioè le esperienze che abbiamo anche fisiche nel mondo spirituale, sono diverse dalle esperienze del nostro mondo fisico. Quindi quando noi poi rientriamo nel corpo umano, quando le persone rientrano nel corpo umano, il cervello cercherà di identificare e di assimilare queste esperienze che non hanno niente di descrivibile a livello materiale e quindi già quando noi parliamo di queste esperienze con le parole in realtà imbrogliamo un po' le carte perché non ci sono a volte delle parole giuste per spiegare un certo tipo di esperienza, quindi chi l'ha vissuta deve poi interpretare l'esperienza che ha vissuto usando delle parole umane, delle parole che noi usiamo sulla terra, lo stesso dicasi per la visione, la sensazione che si è avuto, il nostro cervello va per assonanza, cioè prende delle esperienze reali che lui ha avuto sulla terra durante la vita oltraterrena e li associa a queste specie, cerca di catalogare queste esperienze avute nella vita oltraterrena e cerca di associare un'esperienza terrena perché non sa se no come spiegarla, come dare un significato. Quindi prendete alcune delle cose che verranno oggi descritte sempre con beneficio alimentario si dice no col beneficio del dubbio purché pur rimanendo veritas e veritiera sia la cartella clinica del soggetto che nel frattempo ho scoperto essere morto come abbiamo detto altre due volte c'è avuto altri due arresti cardiaci per la verità dovuti appunto al primo incidente di cui poi adesso andremo a parlarne per cui già lì constatiamo che è un fatto eclatante fuori dall'ordinario a cui la scienza non sa dare spiegazioni e rimanendo comunque le comprovate fasi dell'NDE lui si è spinto oltre e quindi nel racconto ci sarà questo oltre e questo oltre è un po' da vedere, da verificare, da interpretare quindi prendetela sempre un po' come beneficio di inventario quindi io vi ho avvisati non prendete la male, non prendete la cuore, non fatevi sconvolgere prendete con distacco o con coinvolgimento questo video cercando di essere obiettivi sul fatto che è un video che porta delle novità ancora tutte da verificare mentre altre fasi dell'NDE le abbiamo sempre ben verificate perché ci sono tante testimonianze, tanti casi, anche delle controprove in questo caso siamo dati oltre per cui non abbiamo la possibilità di dire sì, questo succede spesso posso solo dirvi che altri testimoni che hanno avuto morti prolungate prima di essere rianimati hanno portato esperienze simili cioè il racconto dell'aldilà dopo la fase di autogiudizio e quindi di trasferimento hanno portato in questo ambiente che lui ci racconta per cui in linea di massima il racconto fila bene, partiamo dall'inizio e arriviamo a parlare del caso il signore in questione si chiama Danion Brinkley è uno statunitense e il suo racconto completo lo potete trovare in un libro che si chiama, è intitolato Saved by the Light salvato dalla luce oppure in italiano si trova con più difficoltà ma lo potete trovare ritorno dall'aldilà il libro è scritto da un giornalista e scrittore famoso amico fra le altre cose del dottor Moody e in tutto questo racconto centra nuovamente il nostro dottor Moody ed è Paul Perry Paul Perry praticamente a un certo punto voleva scrivere di uno dei casi più platanti di NDE polperi si è interessato spesso anche di medium, di spiritismo, di magia eccetera ed è famoso anche per aver smascherato molti impostori per cui lui sapeva però che conoscendolo di persona che il dottor Moody aveva fatto studi piuttosto seri e approfonditi per cui si fidava del suo giudizio e avrebbe voluto scrivere di un caso particolare per poter entrare nel dettaglio e portare in discussione ai suoi lettori proprio la vita dopo la morte quindi poter toccare in maniera seria questo argomento quindi si rivolse al dottor Moody e andò a trovarlo fatalità casualità una storia già programmata un'indicazione di Dio vedetela come volete mentre si trova a casa ospite di cortesia del dottor Moody arriva un signore piuttosto burbero e schietto e non è altro che Daniel Brinkley e qui allora si innesca tutto il discorso Moody era un po' reticente a svelare il nome di Brinkley e invece visto che c'è stato questo incontro è venuto fuori poi il succo del discorso che il caso più eclatante che fino a quel momento di qualche anni fa era stato studiato e rivisitato dal dottor Moody era pronto al caso di Daniel Brinkley un caso particolare in quanto era un signore che era morto ben due volte ovviamente l'N.D.E. più importante la ebbe la prima volta ma anche durante la seconda morte più veloce in quanto si trattava di un arresto cardiaco aveva reiterato questa N.D.E. ma non solo ma procediamo per gradi tra le altre cose Daniel Brinkley dopo la prima sconvolgente N.D.E. aveva acquisito una capacità e non sapeva il motivo e andremo a vedere poi perché durante il racconto lui aveva la capacità di sapere se una persona che aveva incontrato toccandola toccandoli la mano tenendola per mano eccetera aveva in quel momento in essere un litigio una bega familiare uno stress sul lavoro particolare eccetera solo però le cose negative e quindi poteva raccontare all'utente alla persona che incontrava quello che era il momento di disagio che lui aveva nella vita e questa lui la chiamava la lettura delle persone ed è importante perché questa cosa fu la prova o la controprova che convinse Paul Perry a portare questo caso nel suo libro e quindi a parlare appunto di Daniel Brinkley infatti non in quel primo incontro Moody riuscì a convincere Paul Perry a farsi fare una lettura da Daniel Brinkley ma addirittura Daniel Brinkley dovette essere convinto in quanto lì per lì Paul Perry non gli era simpatico c'era stato subito uno scontro proprio perché Paul Perry cercava di essere sempre in guardia davanti a mistificazioni o amplificazioni nonostante si fidasse molto del dottor Moody per sua propria conformazione mentale per sua deformazione chiamava professionale lui cercava sempre di scovare se c'era l'inghippo se c'era anche solo la volontà di ampliare un fatto successo sapete come il pescatore che prende un pesce così dice ho preso un pesce così quindi insomma cercava appunto di sfatare se ci fosse un tentativo di tal quisa una volta che Paul Perry fu convinto che Daniel Brinkley diceva la verità chiese e spergiorò Daniel Brinkley di potervi raccontare nel dettaglio la sua storia Daniel Brinkley non voleva non voleva lì per lì non ne aveva neanche la minima intenzione e invece piano piano si frequentarono e da cosa si sentirono molto per telefono e successo un fatto straordinario siccome Paul Perry dice che lui per raccontare bene una storia deve immergersi nella storia deve immergersi nel personaggio capitò a casa di Daniel Brinkley e li si piazzò a casa finché tutto il percorso della storia di Daniel fosse completo con grande fastidio di Daniel che però alla fine accettò di buon grado di ospitarlo sul divano e qui comincia la storia allora come dicevo negli disclaimer molta attenzione molta calma il video è già lungo fino adesso e lo sarà ancora di più vedremo poi se lo dividerò in due fazioni o cercherò di farlo tutto un dritto spero di non essere noioso ma cercherò di riportare bene anche i dettagli della storia allora Daniel Brinkley dovete sapere che era un personaggio di molta azione ha lavorato per l'esercito degli Stati Uniti dove è stato addestrato e poi ha iniziato a lavorare anche per i servizi segreti militari statunitensi lavorava anche per bloccare commercio illegale di armi da guerra e quindi lavorava spesso anche all'estero e il suo lavoro comportava l'utilizzo della violenza fisica e quindi anche l'annichilimento o la morte di terze persone ma lui non se ne faceva problema e anzi fin da ragazzino era stato un tipo piuttosto vivace per non dire violento per cui anzi era un lavoro che gli vestiva a pennello e quindi non aveva timore di niente non aveva problemi di niente lavorava con e per il governo e aveva anche pure questa copertura per cui lui andava benissimo questo gli permetteva anche di guadagnare parecchi soldi era sposato con una giovane bella ragazza e fin qua gli andava bene all'età di circa 25 anni è a casa e improvvisamente scoppia un grande temporale come di solito dalle sue parti questi temporali comportavano la caduta di molti fulmini ma tutto sommato per chi era abituato non era un grosso problema e questo era il caso di Brinkley Brinkley si portò al secondo piano della casa praticamente verso camera sua e aveva una telefonata importante da fare e si mise al telefono allora io cerco di condensarvi esitentizzarvi un po' l'esperienza e se poi volete maggiori dettagli particolari potete leggerli nel libro o nella storia online se sapete bene l'inglese la trovate online dovete trovare anche un'intervista di Brinkley fra le altre cose in lingua madre quindi in americano inglese americano allora lui è lì al telefono che parla quando improvvisamente un fulmine che entra dalla finestra lo colpisce proprio attirato dalla magneta della cornetta lo colpisce gli entra dall'orecchio e lì brucia metà del cuore un polmone altri organi interni l'intestino e fuori esce da un piede e brucia il pavimento sottostante Plinkley cade morto sul letto la moglie che ha sentito il frastuono dopo un po' sale e lo chiama a gran voce però lui non risponde e lo trova pieno di spasmi appunto tutto ustionato tutto bruciato sul letto chiama prontamente l'ambulanza chiama aiuto e l'ambulanza arriva e cercano subito di rianimarlo completamente perché ogni tanto lo perdono il cuore non funziona più lo rianimano ma lui rimuore lo rianima ma lui rimuore cioè è un continuo di cercare di tenerlo in vita lo spostano sull'ambulanza e partono di gran carriera per l'ospedale più vicino la moglie sale a bordo assieme al miglior amico di Brinkley che era stato chiamato dalla moglie nel frattempo che i paramedici cercavano di intervenire durante il percorso in ambulanza cioè quasi subito all'inizio del percorso Brinkley muore in maniera definitiva non riescono più a riattivarti il cuore e quindi i paramedici non fanno altro che stendere il famoso lenzuolo sul viso di Brinkley e procedere verso l'ospedale come on Danny is gone no no ovviamente la moglie si dispera piange il suo miglior amico anche insieme accompagnano il morto all'ospedale all'ospedale i medici paramedici accolgono il cadavere e cercano di rianimarlo ma nonostante i tentativi e ovviamente i farmaci e tutti i macchinari che mettono in funzione Brinkley non si rianima e quindi lasciando una moglie piangente in sala d'aspetto il suo miglior amico anche portano il corpo in obitorio ed il viene lasciato insieme ad altri corpi di gente morta durante la giornata che poi alla sera sarebbero stati poi catalogati sapete e messi nei vari frighi per poi poter essere espletate tutte le formalità di leggi e poi insomma ridate la famiglia per le esequie e le sepolture nel frattempo i medici tendono un po' sul dare la notizia definitiva alla moglie che non sanno bene come come comportarsi e che tipo di diagnosi stipulare quindi sono indecisi anche dovremmo fare c'è chi propone di fare l'autopsia anche per curiosità medica cioè vedere come questo pulmine ha influito all'interno del corpo e tutte queste cose qua tra la dichiarazione di morte e quindi c'è già stanno già hanno già stabilito l'ora la data eccetera e stanno preparando dichiarazioni di morte e per andare a avvisare la moglie passa circa un'ora un'ora e mezza adesso i tempi anche lì non sono ben chiari ma grosso modo Brinkley è rimasto morto più di un'ora sicuramente anche perché già lo era in ambulanza e questi tentativi di ridare tono battito al muscolo cardiaco non avevano ottenuto risultati quindi possiamo dire che era molto di più perché già sulla a casa era praticamente fulminato però siccome ci sono sempre i santommaso che dicono eh ma magari nel frattempo ora che le cellule cerebrali decano ci si impiega qualche ora eccetera eccetera per cui diciamo bene le cose come stanno a questo punto viene detto la moglie è il suo migliore amico che non c'è niente da fare che le hanno provate tutte che insomma vorrebbero procedere per fare questa autopsia per comunque fare qualcosa di più e mentre sono tutti col cordoglio si cerca la moglie cerca di avvisare anche i parenti più prossimi eccetera un infermiere scende all'obitorio per iniziare a spostare e quindi prendere anche il corpo di Brinkley sapete che viene messo il cartellino difatti c'è una foto sua dove lui si prende un po' in giro steso col cartellino sul piede e magari ve la metto vi metterò qua qualche foto di chi è lui della nuova moglie perché poi lui ha divorziato successivamente eccetera quindi Brinkley è morto da più di un'ora un'ora e mezza a questo punto l'infermiere sposta il corpo e c'è un moto nervoso del corpo però tenete presente che spesso non gli viene dato peso perché può succedere qualche contrazione nervosa anche da chi è morto da un po' di tempo è raro soprattutto più passa il tempo però può succedere però questa infermiere scrupoloso decide di ricondurre il corpo in rianimazione chiama i medici e si accorgono che ha ripreso spontaneamente a respirare e quindi ci deve essere anche battito cardiaco per quanto flebile scusi ci scusi ancora un po' più avanti ecco aspetta un attimo ci siamo quasi bene andiamo è ancora vivo quindi lo rimettono sotto terapia avvisano informano la moglie e l'amico e tengono in rianimazione danion brinkley danion brinkley ovviamente a danion brinkley ovviamente soffre come un cane questo poi ce lo racconta perché sente ovviamente dolori lancinanti non riesce a capire dov'è a questi dolori questi bruciori è tutto ustionato e i medici ovviamente dicono la moglie che non probabilmente non passerà la notte non non vivrà sicuramente molti giorni se dovesse anche passare la notte perché ha mezzo cuore bruciato ha quasi tutto l'interno bruciato un pezzo di intestino eccetera per cui poi ustioni esterne insomma non c'è niente da fare non c'è niente da fare e quindi non danno assolutamente nessuna speranza alla moglie e al caro amico di brinkley nonché a tutti gli altri familiari amici e parenti e qua ci fermiamo un attimo perché questo è quello che è successo a livello fisico ma cosa è successo a brinkley brinkley ricordia di aver sentito il fulmine entrarvi e poi si ricorda di essersi visto di essere stato come sparato fuori dal corpo essersi visto nella stanza mentre la moglie il suo capezzale cercava in qualche maniera di farlo riprendere scuotendolo eccetera poi vede la moglie piangere chiamare l'amico chiamare all'ambulanza cioè fare tutto quello che veniva fatto e seguì il corpo fino all'ambulanza finché finché vide proprio che la moglie piangeva che la i paramedici non erano riusciti a rianimarlo ma non era per nulla angosciato per nulla si sentiva morto tra virgolette e fra le altre cose aveva solo dispiacere per la moglie e per l'amico dopodiché lui dice che si è visto aprire una specie di tunnel verso l'alto e quindi ha iniziato a percorrere questo tunnel lui lo descrive come se fosse un tunnel con delle rigature con delle striature con delle come era esperto di armi da guerra dice come l'interno di una della canna di un fucile che ha queste rigature però dritte parallele ma è stato veramente un movimento un passaggio veloce e qua veniamo c'è chi passa attraverso il tunnel chi si vede salire delle scale chi vive questo momento come il passaggio in una valle la famosa valle oscura citata anche nei testi sacri comunque passa attraverso questo tunnel e si vede venire incontro degli esseri di luce lui li definisce così possono essere angeli possono essere parenti morti possono essere non lo sappiamo lui dice questi esseri di luce questi esseri di luce poi una luce intensa amorosa eccetera inizia avvicinarsi a lui e altri esseri di luce che lui definisce meno luminosi inferiori eccetera si pongono un po' intorno questo essere di luce più luminoso più caloroso più amoroso non sa definire lui perché non era né una luce accecante l'ha sentito avvicinare e man mano che si avvicinava sentiva un'emozione di pace di tranquillità una comunicazione non verbale non parlata probabilmente telepatica la definisce che comunicava di stare tranquillo che non sarebbe successo niente di grave eccetera questa luce lo ha avvolto lo ha abbracciato e in quel momento gli viene chiesto che cosa ha fatto lui durante la sua vita come si è comportato come come ha vissuto questa questa vita e Daniel Brinkley inizia a rivedere la sua vita terrena dall'inizio fin da ragazzino da piccolino appena nato e vede la sua vita con un ologramma a 360 gradi se non che succede una cosa eclatante che ovviamente in quel momento di pace di serenità di tranquillità di amore lo ha molto disturbato di più che se fosse stato lui dice nella vita fisica perché ha provato dei dolori strazianti questi dolori erano dovuti alle emozioni delle persone con lui interloquiva e fa un esempio per tutti io ho capito che anche il lavoro che stavo facendo era sbagliato perché se noi colpivamo un deposito d'armi illegali che ne so in Venezuela o in Arabia Saudita e uccidavamo dei trafficanti è vero che questi erano dei malandrini però è anche vero che poi io in quel momento lì sentivo il dolore delle famiglie della moglie dei figli che non avrebbero più visto il loro padre il pianto la disperazione quindi lui visse non solo le sue la vita la sua vita dal suo punto di vista ma dal punto di vista di tutti quelli con cui lui interagì quindi se aveva trattato male qualcuno ne sentì il disagio ne sentì la tristezza se aveva picchiato ucciso qualcuno ne sentì il dolore e quindi viveva tutti i momenti della sua vita dal suo punto di vista e dal punto di vista del mondo che gli girava intorno un'esperienza magnifica da una parte e altamente drammatica dall'altra un'esperienza che lo sconvolse molto pur non sentendosi triste nel senso umano o o o o come dire nel panico perché comunque era immerso da questa luce che lo manteneva tranquillo e sereno però allo stesso momento sentiva che lui stava cambiando dentro velocissimamente e si ramaricava molto di tutto quello che era successo di tutto quello che aveva fatto perché non aveva mai preso in considerazione che le sue azioni cioè come come gli altri vivevano le sue azioni quindi in quel momento aveva chiaro esattamente perché nello stesso momento in cui lui faceva un'azione viveva lui che faceva l'azione ma anche chi la subiva è un concetto un po' difficile da spiegare perché la cosa è simultanea però è molto chiaro il discorso in questa auto in questa autoverifica dell'autogiudizio della propria vita lui sente il dolore di chi ha fatto del male e anche il piacere di chi ha fatto del bene ma lui aveva fatto molto più del male che del bene per quanto per un motivo legittimo se vogliamo chiamare dal punto di vista delle legi umane e questa fu una delle cose che lo sconvolse e che si portò dietro poi una volta che tornò nella vita fisica a quel punto brinkley si vergognava di se stesso sentiva un profondo rammarico e lasciato un momento non dico da solo perché comunque l'essere di luce lo avvolgeva un momento in silenzio perché lui potesse avere a cura della riflessione lui pensò a quanto amore aveva dato nella sua vita e capì che la sua vita era stata egoistica lui aveva fatto solo quello che poteva per essere se stesso quando l'essere di luce quindi lo lasciò e si allontanò lui sentì il peso di queste colpe di queste di queste cattiverie che ha fatto durante la propria vita alleggerirsi il dolore l'angoscia che poi la sua riflessione aveva amplificato che se stesso aveva amplificato capendo gli errori se ne era andata l'essere di luce li comunicò che gli esseri umani devono essere tesi al miglioramento all'amore a correggere gli errori durante la vita terrena devono cercare il bene sulla terra le cose l'essere di luce sempre mentre si spostava li comunicò che poi non sono gli atti eroici che per carità ma sono i piccoli gesti quotidiani le piccole attenzioni che si danno agli altri quotidianamente perché tanto dolore che lui aveva sentito era anche la disattenzione i confronti degli amici dei vicini della gente che incontrava del povero per strada dell'ubriacone eccetera quindi questa disattenzione crea disagio dolore solitudine agli altri che non vengono attenzionati da nessuno quindi anche questo è molto importante i piccoli gesti della vita quotidiana e quindi anche di Brinkley iniziò a riflettere su questo e pensò e quindi trasmise l'essere di luce che la mia vita deve essere migliore da adesso adesso che conosco il segreto però in quello stesso momento in cui lo disse in cui lo pensò Brinkley capì che non sarebbe più tornato indietro che ormai era molto oltre quella che era la vita terrena e che quindi probabilmente non sarebbe tornato più alla sua vita in quel momento come il fulmine l'aveva colpito nell'orecchio un altro fulmine di coscienza lo colpì fu cosciente che lui era morto completamente che non sarebbe più tornato in vita solitamente questo è il punto in cui durante l'n.d.e. poi la persona momentaneamente morta se vogliamo chiamarla così o morta viene rianimata e quindi l'essere di luce o i parenti o gli amici che sono venuti a prelevarlo nel momento della morte lo respingono e lo mandano indietro nel corpo ciò in questo momento non stava avvenendo Brinkley stava soffrendo di tutto quello che aveva visto stava veramente male ma non riusciva a disperarsi perché comunque l'essere di luce esprigionava questo amore brillava in questa maniera cristallina e l'infondeva forza coraggio e amore non come chi lo giudica per il male che ha fatto durante la sua vita ma come un tutore un maestro che gli indica le cose sbagliate e le fa sentire Brinkley aveva preso coscienza che era definitivamente morto che aveva avuto una vita fallimentare e quindi cosa sarebbe successo adesso? e ovviamente questi dubbi come questi pensieri affiorano è una comunicazione continua cioè non c'è il filtro che noi abbiamo che parliamo con la bocca nel frattempo pensiamo nella testa magari altre cose l'essere di luce non espresse alcun che cominciò a vibrare a vibrare a vibrare a cambiare tonalità di luce come scoprì dopo Brinkley a secondo della propria posizione spirituale del tipo di vita che si è fatti queste vibrazioni possono essere sempre più alti più ci si alza con le vibrazioni più ci si alza spiritualmente e quindi se vogliamo paragonarlo a un pensiero umano terreno avendo sbagliato nella vita o ci si costruisce un inferno personale perché si resta immersi in questo dolore in questa esperienza di dolore oppure comunque si riesce ad alzarsi fino a un certo grado di spiritualità quindi si soffre per non essere riusciti ad andare oltre in questa sofferenza in questo cambiamento in questo apprendimento ulteriore perché si farà un tipo di vita diverso da quella attuale ma si vivrà comunque si migliorerà permettendoci poi nel tempo di salire sempre più di grado spirituale quindi visitando ancora mondi ancora diversi universi ancora diversi questo è il senso del discorso che fa poi brinkley allora mentre l'essere di luce vibrava e cominciò a levitare disse che lui fu trascinato proprio dall'essere di luce da questa vibrazione che aumentava e iniziò a levitare volavano come un aereoplano senza motore come degli angeli senza ali questo è la sensazione che diede a brinkley passarono sopra delle specie di nuvole una specie di mare ma è tutto di cristalli tutto brillava tutte queste luci tutte queste vibrazioni quindi è difficile poi anche per brinkley una volta tornato nella vita fisica spiegare quello che vedeva vedeva scorrere dell'energia come dei fiumi di energia di bellezza indescrivibile che l'occhio umano non potrebbe neanche catturare vide della specie di montagne che lui ha descritto come montagne e insomma vide dei paesaggi che si muovevano e arrivò a una città che lui definisce città di cristallo era forse il livello più basso del paradiso era forse un livello intermedio questo non ci è dato sapere vide molti edifici alti che sembravano addirittura delle cattedrali di cristallo questi sono i punti più eclatanti di quello di cui ci parla Brinkley diceva che c'erano edifici così monumentali più del tabernacolo mormone di Salt Lake City per cui lui aveva questa immagine in mente e lui riesce a paragonare quell'esperienza a questa immagine fu portato all'interno di questa di questa cattedrale di una di queste cattedrali e lì si appoggiò sul banco si sedette non non è ben descritto quello che successe e fu lasciato da solo in questo posto dalla sua chiamavola guida spirituale a un certo punto poi arrivarono degli altri esseri di luce che fluttuando li portarono delle scatole mi pare che le scatole totali fossero sette allora ogni scatola aveva un contenuto quando questa scatola veniva aperta e lui veniva come risucchiato avete presente il pensatoio chi ha visto chi ha visto i film di Harry Potter sa che c'è questo pensatoio in cui viene no viene proiettato all'interno del ricordo di un'altra persona e quindi la vive come se fosse un film 3D è lo stesso si può dire del racconto che ci fa Brinkley di queste scatole lui veniva proiettato all'interno di queste scatole una scatola era la conoscenza altre scatole erano momenti di storia del suo paese degli Stati Uniti e momenti di storia del mondo quindi quello che sarebbe successo gli viene anche detto che non tutto quello che ha visto sarebbe successo perché le cose possono cambiare e sta negli uomini cambiare queste cose gli sono stati comunicati anche dei progetti e che lui avrebbe dovuto creare questi progetti uno di questi progetti è la messa in atto ed è quello che sta facendo è appena uscito anche un nuovo libro di cui vi racconterò in un prossimo video sempre con il dottor Moody che è una specie di voi non so se sapete cos'è una camera di deprivazione sensoriale ve la faccio breve un uomo una donna vengono immersi in un ambiente dove non ci sono stimoli fisici di solito è addirittura appoggiati sull'acqua e quindi non c'è nessun contatto con niente al buio nessuna luce nessun rumore e questo crea ovviamente può creare anche molta ansia ma crea uno stato di privazione sensoriale per cui si è più a contatto con la parte spirituale anche la dottoressa Kubli-Rose fece su di sé questo tipo di esperimento per poter riuscire a capire almeno in parte le NDE che stava studiando e quindi poi essere anche di aiuto difatti lei la precursiva precursora è per precursore lei è uno dei precursori per le cure palliative che si fanno ai malati terminali e e quindi diciamo così che uno dei progetti è quello di creare dei letti particolari dove questa deprivazione sensoriale questo contatto con la propria parte spirituale sia favorito e l'apertura di una clinica che possa permettere alle persone di mettersi in contatto con se stessi e addirittura pare ve lo do come condizionale perché mi sto informando non ho ancora approfondito bene il discorso con alcuni passati oltre con alcuni morti forse anche con i propri morti però questo lo approfondiremo insieme e vedremo se ci sono poi delle prove concrete se sono scientifiche o testimoniali di questo questo era uno degli scopi che avrebbe dovuto svolgere brinkley e che quindi sarebbe stato rimandato indietro a questo punto brinkley venne riportato indietro e in maniera molto veloce fece il percorso a ritroso fino a ritrovarsi nel proprio corpo fisico e di e lui sperava di non essere di rontornarci una sofferenza infinita c'è da dire che appunto i medici lo davano per morto lo davano mai comunque non avrebbe superato il giorno o due e soffrendo un'agonia infinita in realtà si brinkley stava malissimo aveva pochi momenti di lucidità e quando risveniva lui diceva che in quei momenti comunque lui veniva continuamente istruito dagli esseri di luce per le cose che avrebbe dovuto fare cioè gli davano spiegazioni tecniche e quindi questo lo aiutava a sopportare i momenti di lucidità e di dolore estremo che provava la sua forza di volontà la sua fortissima forza di volontà il fatto di voler portare a termine questa missione per scattarsi per il male che aveva fatto lo portò addirittura a fare le cose come buttarsi giù dal letto durante la notte per cercare di muoversi perché lui era quasi completamente paralizzato questa forza di volontà il dolore atroce che sopportò lo aiutò a rimettersi nel giro di un mese ovviamente anche tornando a casa sia i medici che i familiari la moglie stessa era stata avvisata che erano tornare a casa per lasciarlo morire più tranquillamente a casa che già non si dal punto di vista medico era inspiegabile che lui fosse sopravvissuto per così tanti giorni e che ancora riuscisse a sopravvivere perché il cuore era per buona parte compromesso un polmone per buona parte compromesso molto di quello che faceva per buona parte compromesso tanto che Brinkley aveva continui blackout cioè la pressione sballava immediatamente lui sveniva sbatteva per terra eccetera il solo fatto di recarsi dal letto al bagno spesso se la faceva addosso perché non ce la faceva ad arrivare al bagno e quando pian piano riuscì a farcela in tempo lo lasciava comunque senza fiato tanto era lo sforzo nel frattempo la sua economia familiare andava a rotoli perché ovviamente i costi che continuavano a esorbitare i costi medici i costi per le terapie che doveva fare anche a domicilio erano molto alti questa seconda parte ve la faccio un po' più abbreviata ma diciamo che man mano comunque nonostante tutto e tutti Brinkley cominciò a stare meglio e solo aveva una paranoia quella continuamente di raccontare di parlare a tutti compresa la moglie di questo incarico che aveva ricevuto di questa missione che doveva portare a termine tutti gli davano del pazzo la moglie non lo sopportava più neanche lei e lui non sapeva darsi pace ciò nonostante questa cosa gli dava una volontà tenace di andare avanti finché un giorno nella sua città scoprì che c'era un leggendo il giornale un simposio del dottor Moody che stava per pubblicare il primo libro quindi siamo negli anni 70 il dottor Moody stava per pubblicare il primo libro che Brinkley non gli parve vero con le stampelle cercò quindi di raggiungere un mezzo di trasporto un taxi e si fece portare nel teatro nel community center dove veniva fatto questo simposio e dove c'era appunto il dottor Moody che parlava di questi casi in quel momento si sentì psicologicamente benissimo Brinkley perché finalmente scoprì di non essere solo che c'erano altri che avevano vissuto le sue stesse esperienze quantomeno simili e che c'era chi lo poteva capire durante l'intervento e dottor Moody alzò la mano e dice appunto che lui era morto colpito da un fulmine scatenò anche l'ilarità generale e Moody gli chiese se avesse potuto intervistarlo e lui confermò e quindi lì nasce anche la storia del loro incontro e quindi poi di quello che sarebbe successo come Moody l'avesse seguito eccetera Brinkley piano piano si rimise in carreggiata nonostante le finanze ormai dovete vendere anche la casa dove abitavano dove il fulmine l'aveva colpito e gli operai che andarono a fare trasloco notarmo i buchi e le bruciature nella camera sopra dove il fulmine aveva attraversato Brinkley e poi si era scaricato sul pavimento detto questo però Brinkley attraverso le informazioni che aveva ricevuto e che ogni tanto riceveva aveva questa possibilità di contatti con gli esseri di luce iniziò comunque a commercializzare alcuni prodotti si era rimesso nel campo anche governativo lavorando col governo e costruì alcuni prodotti elettronici tra cui un prodotto che a vibrazione impedisce i ciripedi di mare di attaccarsi alle chilie delle navi fino a quel momento veniva utilizzata una vernice altamente tossica con la sua invenzione non c'era più bisogno di usare questa vernice tossica e quindi la società che aveva fatto con altri amici iniziò a prosperare ma non solo quello lavorò per fare quei sensori per segnalare se ci sono delle micro spie eccetera quindi tornò a lavorare col governo per la sicurezza sotto almeno certi aspetti ciò nonostante iniziò a fare volontariato iniziò a aiutare persone in difficoltà e tutte le settimane faceva anche due giorni consecutivi di volontariato ciò nonostante questo lo stancasse e lo uccidesse praticamente piano piano nuovamente perché ricordiamoci che lui comunque aveva una buona parte del cuore che non funzionava bene per cui era una gran fatica a fare tutto andò avanti così per circa 15 anni dopo 15 anni nel frattempo anche divorziò era toccato era era prevedibile anche perché lui comunque aveva questa monovisione di dover portare avanti questa missione e piano piano lui anche questo letto lo aveva quasi interamente costruito i pezzi le cose perché era difficile anche interpretare bene queste queste indicazioni al punto di vista tecnologico succede che dopo 15 anni improvvisamente si sente male mentre come finché con una sua socia di lavoro la socia la compagna in camera d'albergo però lui poi sta proprio male e riesce lei allora ad accompagnarlo in ospedale in ospedale una volta che i medici si accorgono nella sua situazione gli dicono che muore che non c'è più nessuna possibilità di sopravvivere e lui è contento perché stufo anche comunque la sua vita era faticosa era anche dolorosa a tratti quindi era contento di morire arrivò anche un cardiochirurgo piuttosto bravo e gli disse che avrebbe potuto tentare un'operazione per salvarlo che le possibilità erano molto poche ma era l'unica soluzione bastava che lui firmasse lui non voleva firmare non avrebbe voluto firmare assolutamente finché il suo caro amico riuscì a contattare il dottor Moody il quale arrivò al suo capezzale e gli disse che non poteva morire adesso che aveva bisogno insomma lo un po' fu l'unico a riuscire a dare un po' di sprint e allora Brinkley decise di sottoscrivere e firmare per l'operazione durante l'operazione Brinkley morì con grande disperazione dei medici che avrebbero voluto salvarlo senza grossi intoppi morì ovviamente provarono a rianimarlo più volte e alla fine venne rianimato e quindi torno sulla terra nuovamente in quell'esperienza sebbene più rapida per quanto nel mondo dopo la morte il tempo sia non sia come qua quindi non ci sia una relatività del tempo ricevete altre istruzioni e anche una tirata di orecchie perché non era ancora riuscito a portare in fondo c'era fretta di portare in fondo questo progetto quindi si riprese tornò alla sua vita e coinvolse ancora di più mudi per portare in fondo questo progetto di questa clinica per aiutare le persone ad avanzare spiritualmente possiamo definirla così lui la chiama in modo diverso ma io cerco di risolvere in un video che è già a lungo di per sé in maniera concreta quello che lui dice e a tutt'oggi Brinkley è ancora vivo nonostante come vi ho detto all'inizio pare abbia avuto altri due arresti cardiaci la clinica è quasi completata e il dottor Moody ha appena scritto alcuni libri che parlano anche della morte condivisa tutto questo a pensare che queste persone sono state comunque messe in comunicazione da chi c'è sopra di noi per chi crede in un dio per chi crede in un'energia diciamo così superiore perché uno dei prossimi argomenti che parleremo nell'n.d. è proprio questo parleremo della morte condivisa e la morte condivisa è quella morte che per esempio capita a un parente un amico una persona che vi conosce o che conosce il morente di avere un messaggio al morente nel momento in cui muore anche se a distanza di migliaia di chilometri o di avere una precognizione della sua morte capita di persone al capezzale del morto che hanno una prima parte di n.d. e di esperienza di n.d. insieme con il morente quindi anche di questo andremo a parlare anche se in questo campo siamo ancora più agli albori degli studi dell'n.d. e vera e propria perché è un campo tra virgolette nuovo in cui ci stiamo avventurando per capire bene un po' tutta l'n.d. e in generale e cosa ci capiterà nella vita dopo la morte io spero che il caso di Brinkley vi sia piaciuto spero di non essere stato noioso scrivetemelo qua nei commenti se va bene anche un video così lungo vedrò di fare un video unico e vi ripeto il titolo del libro sia in italiano che in lingua inglese allora in italiano è l'autore è Paul Perry e il libro si chiama ritorno dall'aldilà in inglese saved by the light salvato dalla luce allora è stato fatto anche un film vedete datato 1995 il cui titolo in italiano è oltre la vita se no in inglese sempre saved by the light ovviamente è romanzato lui non lavora per il governo ma è un po' un teppistello però per il resto la storia segue esattamente quello che gli succede il fulmine la morte e il passaggio nell'aldilà e quindi poi rientro il cambiamento completamente della vita se avete occasione di vederlo è stato anche trasmesso dalla Rai lo si trova online cercate anche bene su YouTube è facile che lo troviate anche se non si vede molto bene e quindi potete anche farvi un'idea così un po' più pigra del contenuto del libro dando un'occhiata al film mi raccomando prendete sempre queste cose con un attimino di obiettività perché parliamo sempre di chi una volta tornato in mezzo a noi cerca di spiegare con parole umane e con sensazioni umane cose che io presumo non siano affatto spiegabili o affatto assimilabili a sensazioni umane scrivetemi qua cosa ne dite vi ricordo è per voi è gratuito non costa niente non è un suo impegno è un secondo iscrivetevi al canale mettete un like perché questa è benzina per i canali YouTube ci serve per crescere e per entrare nelle statistiche di YouTube e per potervi portare nuovi video quindi per cortesia fatelo ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti da Armando ciao ciao